prima gara di campionato juniores tra la virtus castelfrentano e lo scerni il direttore di gara il signor ferrara della sezione aia di lanciano noi giochiamo con la divisa giallorossa c'è solo una piccola variante sono state cambiate i pantaloncini che sono bianchi in quanto se non si confrontano con la squadra dello scerni lo scerni con la divisa la maglietta bianca pantaloncini rossi calzettoni neri prima gara di campionato juniores qua al della vittoria di via nazionale di castelfrentano il capitano è il nicolò capitano della virtus nicolo d'angelo è iniziata la gara in porta ci abbiamo in porta c'è usci daniel in panchina si dovrebbe stare tano come secondo portiere per i capelli